Una storia terribile di violenza su un minore e il coraggio della famiglia della vittima di affrontarla e farla emergere. Un 35enne triestino è sotto inchiesta con l'accusa di aver abusato di un bambino di soli 11 anni, adescando con la promessa di un regalo, una console per videogiochi. Il fatto sarebbe accaduto l'anno scorso in una cantina del comprensorio Ater di Montebello, secondo quanto ricostruito dalle indagini. È stata la famiglia dell'undicenne a cogliere il campanello d'allarme nei suoi comportamenti insoliti e in particolare una parente riuscita a farsi raccontare l'accaduto dal bambino. Dopo una visita al burlo è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria, mentre la famiglia si è rivolta all'avvocato Giovanna Augusta De Manzano, che ha fatto partire la denuncia, di cui il fascicolo aperto dal PM Frezza a carico del 35enne disoccupato. Contattata al telefono, la legale che tutela la vittima ha voluto esprimere ammirazione per il coraggio esemplare della famiglia nel far venire a galla quello che troppo spesso è trattato come un reato tabù.